A Nibale sta passando le Alpi! Le nostre guarnigioni sono in fuga, nessuno di Giappone? Solo Rutario. Ma è sempre stato nemico di Roma. Rutario conosce quelle montagne e ritarderà la marcia dei Cartagena di Sala. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!